buonasera mister maria rosario de pietro di calabria ben trovato una partita un po scialba doveva essere un po riscatto dopo queste due sconfitte consecutive ma questo riscatto non si è visto poi tanto alla fine la tifoseria ha un po lanciato delle accuse pesanti che avete raccolto tutte soprattutto tu però non è stata proprio una bellissima partita oggi più di qualcuno forse non era in forma vabbè io penso che le partite siano tutte molto difficili siamo partiti secondo me nei primi dieci minuti non brillanti e quindi loro non ho trovato poi penso che il pallino del gioco l'abbiamo trovato e abbiamo fatto tantissimi cross abbiamo giocato c'è mancato il guizzo c'è mancato un po di brillantezza la partita poi si racchiude tutto nell'ultimo dieci minuti dove noi comunque eravamo molto stanchi la squadra si è allungata penso che il cerignolo ha fatto una partita comunque difensiva noi siamo stati lenti nel palleggio io non mi devo vergognare di niente la squadra questi sono risultati il campionato è molto difficile lo stiamo vedendo per me l'impegno i ragazzi ce lo mettono ma di solito impegno e non risultato può andare anche di pari passo quindi abbiamo commesso soprattutto abbiamo fatto partite migliori senza dubbio però dentro questo secondo me siamo andati tante volte dentro l'area abbiamo trovato mai il guizzo soltanto alla fine con guido che ha fatto un gol spettacolare quindi ci ha permesso di non perdere la partita però io so la difficoltà delle partite quindi noi partiamo sempre per cercare di vincere ma sapendo che servono partite fatte molto bene senza errori perché gli altri possono mettere in difficoltà però oggi non penso che una squadra sia stata superiore all'altra per me è stata una partita equilibrata come se ne vedono tantissime però a me non mi va di giustificare cioè la contestazione la prendo nel senso che non è che mi nascondo nel senso che tutti noi vogliamo vogliamo di più però tutti insieme si può fare qualcosa a prescindere da Zauli o non Zauli quindi siamo alla quarta di campionato la squadra a quattro punti ne avrebbe potuti secondo me avere di più e quindi mi sembra tutto molto esagerato non parlo nei miei confronti verso i ragazzi perché comunque è una squadra che l'anno scorso ha fatto tanto che quest'anno sta ricominciando un po' una squadra un pochino nuova sta cominciando ha trovato delle difficoltà di risultato e questo ci dispiace per primi ma la squadra per me è una squadra che lotta e mi va è finita finito stremata fino alla fine quindi non vedo un atteggiamento per quanto riguarda la mia esperienza non voglio andare contro nessuno questo è il mio è il mio parere sarà mister pro colui da c news 24 croton informa allora permesso che la vergogna nello sport non esiste proprio non soprattutto quando dei professionisti si misurano atleticamente sportivamente comunque anche non sportivamente atleticamente sportivamente umanamente tutto quindi premesso questo è fuori di ogni dubbio ed è ovvio che le tifoserie di tutto di tutto il paese e di molta Europa utilizzano dei messaggi che noi media spesso e volentieri anche diciamo cavalchiamo detto questo messa da parte questo però domande tecniche si fanno cioè se lei se lei non vede un netto una netta involuzione nelle quattro gare che ci sono state e se questa involuzione passa anche da ripetuti cambi di modulo e di interpreti nella nei punti nevralgici del del gioco del calcio che è quello della mediana in generale semplicemente questo perché poi uno può vedere diecimila partite però sinceramente il risultato di gioco del crotone nel primo tempo e nel secondo tempo è quello è sotto gli occhi di tutti no sul secondo tempo non sono molto d'accordo che non mi ricordo oltre i miei dieci minuti c'è l'ignola si avesse attaccato ha fatto una partita difensiva e noi non abbiamo trovato ma noi delle cinque partite abbiamo fatto quattro partite o quattro due tre uno io non vedo tutti questi stravolgimenti siamo andati sulla francavilla che avevo fatto delle scelte perché ho considerato il campo la verticalità ci siamo già parlati di quella partita le altre sono tutte uguali tutte partite con lo stesso modulo possono cambiare gli interpreti abbiamo preso del rigo lo stiamo portando e quindi per me è un giocatore che diventerà importante per questa squadra e quindi se non cominciamo a farlo giocare ci diciamo sempre che serve tempo quindi ha cominciato a giocare e gli altri sono sempre gli stessi o centrocampisti importanti felipe lo ritengo un titolare giocano due centrocampisti ho fatto una scelta la difesa è quasi sempre la stessa gigliotti era squalificato non tribusi e dulzi ho sempre loro non vedo una squadra che possa possa avergli dato io della confusione con i modulo rispondo solo a quella del modulo la squadra ha giocato sempre la stessa maniera nelle cinque partite ufficiali tranne che a francavilla quindi in quattro partite uguali e a francavilla ho cambiato quindi su quello non lo so non lo so poi abbiamo fatto una partita più opaca di quella con la turris sì evidente mica dico al contrario ma la turris era 45 giorni fa contro era una settimana fa quindi l'involuzione è in un lungo periodo in una partita rispetto alla turris che era sette giorni fa sicuramente siamo stati molto meno brillanti però oggi siamo stati più lenti siamo stati meno efficaci abbiamo coperto l'area in maniera diversa tanti cross non siamo stati precisi e quindi questo ha fatto sì col risultato prima che facessero con loro una palla importante l'ha avuta dulzi davanti al portiere se fai gol passi 1 a 0 e fai una partita normale sporca che porti a caso il risultato oggi stiamo parlando di un 1 a 1 in casa e volevamo tutti la vittoria non siamo contenti non è che ci nascondiamo vi sa abbiamo fatto un calcio spettacolare non ci meritevamo no abbiamo avuto delle difficoltà oggettivamente durante una partita contro una squadra che l'anno scorso ha fatto i play off è uscita come uscita ha mantenuto tanti giocatori simili è una squadra competitiva dimostrato perché ancora oggi è imbattuta quindi io la vittoria scontate in un campionato così difficile non la vedo bisogna fare partite migliori per vincere le partite in questo campionato converrà del resto l'ha detto lei è mancata brillantezza certamente specialisti in soluzioni individuali quelli che saltano l'uomo qualche volta nelle scelte quanto e se secondo lei lo è in che percentuale e pesa una condizione fisica non ancora no beh oggi il caldo è condizionato perché oggi non c'era l'umidità veramente fuori fuori dal comune delle ultime partite ma c'era per noi c'era per loro quindi non è che però no ma io parlo di quando siamo stati lenti nel palleggio vuol dire nel giro palla dietro nella velocità di andare da una parte all'altra quindi un po generale non è nel singolo che deve saltare l'uomo è chiaro che nel calcio saltare l'uomo o col passaggio col dribbling aiuta e la difesa più è più facile difendere più facile difendere se si è lenti nel giro palla quindi non abbiamo avuto qualità quando ci siamo arrivati vicino perché se abbiamo avuto difficoltà a tirare in porta è chiaro che è figlia di queste cose qua io dico soltanto che è stata una partita non bella e lo sottolineo quindi non vengo a dire qui che è stata una bella partita io però dico che è stata una partita di quelle che in tanti campionati in tante partite lega pro si vedono e noi come dico ragazzi tutti i giorni in questo campionato perché mi sembra che tante sono diventate delle buone squadre servono partite importanti per arrivare alla vittoria succede succede per me peggio prendere a volte errori più tattici no per il portiere dico di posizione questo è un infortunio è evidente insomma se ne abbiamo viste anche in finale di champions league deve voltare pagina deve dimostrare personalità piena fiducia in andrea proprio nessun tipo di problema per fortuna anche per lui che lo aiuta il gol è il gran gol che ha fatto come se comunque quel quell'errore non ha portato una sconfitta ha portato un pareggio e quindi già già è importante per lui ma lui non li non deve scalfire la stima che c'ha della società dei compagni dell'allenatore albemistro giuseppe libadotti della provincia caffè però si fa l'analisi partita dopo partita di ciò che non è stato di ciò che dovrebbe essere e che ancora non c'è ora noi stiamo parlando di un crotone che lei si porta dietro giocatori che la passata stagione erano in un contesto di una squadra che è stata la miglior seconda di tutta la lega pro ora l'attesa cioè il miglioramento di questa squadra da dove deve passare perché è come quello che diceva beh adesso abbiamo fatto questo poi aspettiamo tempi migliori quando succederà qualche cosa ma non è che un qualche cosa che deve succedere per astratto cioè ci deve essere un cambio di uomini un cambio di modo ne ha già parlato e diciamo la preparazione atletica regge è una preparazione per una squadra che deve stare nella parte alta della classifica perché a meno che non c'è la convinzione che il crotone lì c'è una classifica che va dal primo posto al decimo posto poi dal decimo posto al vendesimo posto allora ci vediamo che cosa ne può uscire di questa squadra perché siamo alla quarta giornata escludendo la coppita con la cremonese però il miglioramento partito dopo partita di questa squadra come carattere come velocità di giocate e come personalità uomo su uomo non si vede ancora e i risultati lo stanno dire lo stanno affermando io non sono così disfattista ma lo dico con la massima serenità con la franchezza con mettendoci la faccia come ho sempre fatto è un campione difficile abbiamo commesso degli errori in qualche partita che non ci ha permesso di fare risultato io non penso che le squadre che abbiano giocato con noi cerignola oggi cerignola avrebbe meritato di vincere no allora non siamo onesti perché noi abbiamo avuto diverse palle go come loro loro hanno avuto due o tre quando ce l'avevamo allungati completamente verso la fine il secondo tempo prima del dell'errore di andrea non mi ricordo un'occasione era al 45esimo qual è stata un'occasione due occasioni quindi due hanno dominato cioè no ma non voglio far polemica però no no ma va bene guarda guarda volevo arrivare in questo momento e non giustificare niente a me non non mi interessa non mi interessa giustificare non mi devo niente perché ognuno ha il commento io cercherò di essere sempre costruttivo quello sicuro e allora il discorso è questo cioè noi stiamo aspettando dall'inizio della seconda che la partita successiva siamo qua a complimentarci di quello che effettivamente è e dovrà essere noi siamo alla quarta partita che ci riportiamo a dire quello che hanno fatto gli altri no no ma infatti non volevo parlare di cerignola io parlavo della partita in generale oggi parlavo il cerignola perché è stato il nostro avversario non mi permetto di parlare di quello che ha fatto il cerignola che già è difficile pensare alla propria figuriamoci se mister se non vince di vadotti non stacca quindi lo faccia per noi secondo me non li abbiamo creduto io sono arrivato a questa percezione lei sono due mensi che ci sta dicendo che questo non è il cambiato dell'anno scorso che questo non è il clotone dell'anno scorso e che sarà molto più complicato secondo me stiamo sbattendo con la faccia alla realtà perché questo non è il clotone dell'anno scorso non è il campionato dell'anno scorso e siamo qui però l'unica cosa che dispiace essere qui a commentare sempre gli stessi errori soprattutto quelli sottoporta perché io non ho capito perché hanno annullato il primo collo al clotone nel primo tempo ha detto che è fuori gioco quando è partita la punizione era l'unico dubbio che avevo ma l'inquadratura non chiariva dopodiché abbiamo sbagliato il solito collo lisciando la palla sempre a porta quasi libera è una costante però c'è anche la costante di un gioco che non decolla questo sì però voglio ritornare su quello che ho detto all'inizio mister forse probabilmente non ne abbiamo creduto perché questo non è il cambiato dell'anno scorso no io penso che con la Turris il gioco si sia visto e parliamo di una settimana fa siamo d'accordo o non siamo d'accordo? siamo d'accordo a Catania si sia visto, a Cremona si sia visto a Francavilla abbiamo fatto una partita da Lega Pro normalissima e stiamo stati penalizzati oggi è stata una partita anonima sono io il primo a dirlo, anonima ma i ragazzi non possiamo dire che se fanno una partita anonima sia mancato l'impegno io su questo li difendo, su questo non mi sono presentato a dire abbiamo tirato in porta più del Cerignola anche se poi vedremo i numeri insieme ma non sto dicendo quello, sto dicendo che abbiamo fatto una partita anche per quanto mi riguarda lenta anche di possesso palla spesso ma lenta quindi abbiamo agevolato la fase difensiva del Cerignola e abbiamo creato il nostro palle gol che a volte che se facevi gol poteva cambiare la partita come poteva capitare a loro, come è capitata alle squadre avversali quindi io non sto qui a dire che a difendere una prestazione è stata una partita opaca su questo non voglio arrampicare sui specchi dicendo che cosa in un campionato difficile dove stiamo giocando ogni tre giorni dove oggi abbiamo giocato una squadra che l'anno scorso ha perso col Foggia non si sa come e quindi era arrivata ai costi quindi oggi sarebbe servita una partita più importante ma ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti abbiamo il nostro obiettivo sicuramente di dare più velocità al gioco di tornare a giocare senza errori come abbiamo fatto già una settimana fa con la Turris questo è il nostro obiettivo, non vedo che una squadra è un mese e mezzo che non fa risultati io questo è quello che penso ma in maniera molto onesta e mi tolgo dalle vesti quasi dell'allenatore però questa per me è un onestà intellettuale non vado a difendere la partita di oggi oggi è stata una partita difficile contro una squadra forte dove c'è delle fisicità importanti centrali dove comunque ha gamba di ripartenza perché è davanti a velocità e quindi noi che non eravamo brillanti oggi ogni tanto ci hanno messo in difficoltà avremmo potuto segnare noi come avrebbero potuto segnare loro detto questo noi vogliamo sicuramente migliorare quindi il signor Livarotti non vuole scrivere l'articolo negativo sul Crotone ma figuriamoci noi che siamo i primi personaggi se ci fa piacere pareggiare o non offrire una partita di qualità noi siamo lì per quello grazie a tutti grazie a tutti